Davide, arriva questa sconfitta tra due, rimane il primo posto e adesso agli ottavi ci sarà la Slovacchia. Che bilancio dai di questa partita e di questo girone? Positivo perché comunque abbiamo vinto il girone e dal punto di vista del gioco oggi abbiamo sofferto all'inizio l'adattamento perché avevamo preparato qualcosa di diverso e invece la Polonia ha cambiato qualcosina a livello tattico e nell'adattamento abbiamo messo un po' di tempo a trovare un po' le misure e in più comunque battute ricezione abbiamo sempre sofferto e nella sfida battute ricezione loro ci hanno sempre messo sotto nei set che hanno vinto e invece nei altri due abbiamo espresso una pallavolo bellissima e anche in break point abbiamo fatto cose belle dalla battuta a tutto quello che è il muro difesa e invece ogni volta che abbiamo perso un po' di spinta in battuta poi abbiamo perso anche fluidità in cambio palla e lì secondo me è quello lì che ci è mancato stasera per riuscire a portare a casa la partita. In cosa vi hanno sorpreso? Beh, hanno cambiato i centrali e noi avevamo preparato qualcosa di diverso per marcare i centrali e poi li hanno anche invertiti quindi era un po' diverso rispetto a quello che avevamo studiato e anche le linee di ricezione un po' erano cambiate rispetto a ieri però quando le ho lasciate più libere di cercare la battuta, soprattutto ai salti flott siamo riusciti a metterle in difficoltà e a trovare comunque una correzione muro difesa che ha funzionato e poi dal quarto in poi abbiamo ricominciato un pochino a non mettere più pressione al servizio e da lì, come ho detto, abbiamo perso spinta anche in cambio palla. Può aver pesato il fatto di non aver giocato.